La pizzeria più alta d'Europa si trova a Cortina e più precisamente a Ravalles. A 2475 metri di altitudine si possono gustare pizze scioglievoli e condite con ingredienti di montagna. E dal terrazzo di Cappanna Ravalles si gode di un panorama spettacolare sulla conca ampezana con attorno tutte le vette dolomitiche che fanno da corona.